Ciao a tutte, oggi sfogliamo il nuovo album del Livro Shea, l'album numero 5, che è valido fino al 26 aprile del 2016. Vedrete che ci sono tantissime promozioni per la festa della mamma e soprattutto tante novità, tante offerte, tante edizioni primaverili perché finalmente è arrivata la primavera e io direi di non esitare oltre e di sfogliare insieme il catalogo. Iniziamo subito a vedere le promozioni e vediamo dalla prima pagina, ecco, che c'è una novità, questo nuovo profumo della Comune Evidence e le Parfum, perché è una novità e con il nuovo profumo con questo nuovo flacone, molto molto carino, a 34,95, perfetto per le feste della mamma. Abbiamo i set che comprendono, ed è questa scatola a regalo molto bella, con la salvietta, il profumo nuovo, e il latte corpo e il gel doccia a 39,95. In alternativa abbiamo anche il Comune Evidence e le Parfum, questo classico, oppure ed è quello intenso, sempre per torsette, e gli altri profumi, quindi ed è questo, il Solixir Purple, eccolo, quindi con tutti, e Vanille Noire, Meroli, Momente Bonheur. Vediamo ora una novità perché, ed abbiamo, eccolo qua, la nuova profumazione dell'Omatina au Jardin, quindi vi presento la foglia di verbena, che è freschissimo, aromatizzato, e perfetto direi per la primavera-estate. Abbiamo le due toilette, come al solito, 17,95, il latte corpo, 6,95, e il gel doccia a 3,95. Ovviamente, ed è, abbiamo, ecco qui, tutte le altre profumazioni, però, in questo caso, per la festa della mamma, si ha, ed è, la promozione con la nuova linea, a 24,95, accompagna tutti e tre i prodotti, e più la confezione a regalo. Andiamo avanti con il set a regalo, e vediamo, 9,95, il, questo è quello alla vaniglia, quindi il bagno doccia a 400 ml alla vaniglia, il latte corpo, sempre da 400 ml, e la borsa a confezione a regalo. Oppure, abbiamo i set, eccoli qui, ed è sempre la vaniglia, in questo caso abbiamo il cestino, con la selvietta, poi il latte corpo, il gel doccia sfogliante, e il mini bagno doccia a 50 ml, tutto a 14,95. In alternativa, abbiamo anche il profumazione al cocco, come sempre, i due prodotti, con la borsa, oppure anche la profumazione all'avena, stessa cosa, si è per 9,95, la borsina e i due prodotti. Vediamo il set per i piedi, intanto, perché abbiamo la crema nutriente ai piedi, e il gommage piedi a 7,95, e in alternativa vera, mi sembra un'ottima promozione, e un'ottima idea. Vediamo ora il set mani perfette in tre mosse, perché abbiamo questi piccoli set, che comprendono, lo vedete meglio qua, a 9,95, eccolo qui, la crema sublimatrice 2 in 1, mani e unghie, poi la base SS rinforzante, e lo smalto gel. La differenza di tutti questi prodotti è che si può scegliere il colore dello smalto, quindi il colore dello smalto che volete, con il codice, il set non cambia, sempre 9,95. Vediamo ora, eccola qui, un'altra grande novità primaverile, perché questa è della linea Simpsons Vegetal, l'acqua leggera lenitiva, che è perfetta, vedete anche che ha la confezione vapo, quindi è proprio perfetta da vaporizzare sulle viso, per rinfrescarlo e lenirlo soprattutto, ed è in questa stagione dal vento, se c'è, oppure dal sole, ma anche solamente se abbiamo l'allergia, che quindi è decongestionato, visarossato, insomma, è un'acqua perfetta. Veniamo ora alle promozioni per i capelli, perché abbiamo il set per i capelli composti da shampoo e balsamo, a solo 5 euro il set. In questo caso abbiamo il set per i capelli nutriti, quindi quello trattante e nutriente. Ora vi faccio vedere quello per i capelli ricci, sempre shampoo e balsamo, quello per i capelli lisci, sempre shampoo e balsamo, a 5 euro. Eccolo qui, quello per i capelli colorati, ovviamente. Ed infine quello per i capelli nutriti e riparati, quindi il riparatore. Vediamo ora questa promozione, perché con i set per il viso, ed acquistando 25 euro di trattamenti anti-età viso, che ora dimostro, si ha in omaggio questo bel vanity, molto carino e soprattutto molto capiente. 25 euro di prodotto, mi raccomando, e dividiamo tra tutti questi. Quindi vedete anche dei prezzi che si fa davvero presto ad avere un valido prodotto, intanto il scorro, ad avere un valido prodotto per il viso, e intanto avere in omaggio il vanity. Tutte le linee per il viso anti-età, quindi. Concludiamo con i set, 5 per la festa della mamma, perché abbiamo delle tre principali linee, quindi la serum vegetale, l'anti-età global o la riche crème, il cofanetto trattamento viso, che è il primo, ad esempio, serum vegetale, comprende, ed è a 25 euro, il trattamento all'impolpante giorno e il filler occhi e labbra. Linee anti-età global, eccola qui, 39,95, abbiamo la crema fondamentale giorno ed è la crema occhi, eccola qui in questo cofanetto. Oppure 27,95, la riche crème, che comprende sempre la crema anti-rughe giorno e quella occhi. E questo era tutto il catalogo. Eccoci qui. Allora, come sempre vi ricordo che qui sotto, nel box di informazioni, ci sono i link per contattarmi, per gli ordini, per le informazioni, e soprattutto c'è sempre anche il link per scaricare in formato PDF il catalogo, così potete tranquillamente vedere tutte le promozioni, tutte le offerte e anche quelle che magari non ve ne ho parlato perché erano i soliti prodotti e non erano delle novità. E quindi non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente perfumati con le magiche naturali mondo di Verochet.